E' Daniele Franco, l'uomo copertina di questo inizio di campionato per la Turris. Il centrocampista Corallino è l'assoluto protagonista della vittoria ottenuta contro la Viterbese nel turno infrasettimanale che proietta la compagine torrese nelle zone altissime della classifica. La Turris è ora seconda in classifica con i sei punti ottenuti nelle due gare disputate, dietro solo al Bari che però ha disputato una partita in più. Gli uomini di Fabiano partono bene nel match contro i razziali e trovano il vantaggio a metà primo tempo con un tiro da fuori di Franco che prima sbatte sulla traversa e poi rimbalza sul terreno. L'arbitro dapprima non concede il gol, poi su segnalazione dell'assistente, indubbiamente meglio piazzato, convalida la rete tra le proteste degli ospiti. Ma nel giro di un minuto la Viterbese pareggia con un perentorio colpo di testa di Baschirotto. La ripresa si apre col botto, pallone vagante sulla tre quarti, tiro al volo di sinistro e palla sotto l'incrocio per Franco che sigla un aerogol da Cineteca mandando invisibilio i pochi presenti allo stadio e tutti i tifosi che hanno assistito al match davanti agli schermi. Il secondo tempo è un monologo corallino con diverse occasioni sciupate dai padroni di casa fino all'espulsione dello stesso Baschirotto che lascia in dieci razziali fino al triplice fischio finale. Domenica match serale contro il bisceglie per provare a continuare il trend positivo.